con il destro che gollo con l'osso che gollo con il destro che gollo è iniziato il primo tempo merengue contro la qualità 0-0 super 8 torneo tergato SK ora possiamo seguire tutta la prima frazione di gioco 0-0 super 8 0-0 super 8 0-0 super 8 0-0 super 8 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.